Fossati, allora come legge questa situazione di crisi nel Comune d'Imperia, questa volta decisamente più pesante dei vistici del passato? Con una battuta potrei dire che anche il PD è passato alla posizione, insieme ai socialisti, insieme al gruppo Strescino, insieme a Paolo Rea, insieme a tutti gli altri, il Sindaco è rimasto da solo, forse con due o tre fedelissimi. Al di là delle battute, io credo oggi in un comunicato che ho detto, il Sindaco ha fatto veramente di tutto, ma veramente di tutto per farsi mandare a casa. In questi anni ha maltrattato i dipendenti comunali, oltre a aver amministrato male ovviamente, ha maltrattato i dipendenti comunali, ha maltrattato la minoranza, e vabbè quello ci può anche stare nel gioco delle parti, ha maltrattato la maggioranza, non ha tenuto fede agli impegni presi e su queste ultime vicende denota di avere una visione politica amministrativa diversa dalla maggioranza che fino ad adesso l'ha sostenuta. È evidente che o trova una composizione con la sua maggioranza, quindi o si adegua lui alla sua maggioranza, la sua maggioranza si adegua lui, oppure è inevitabile che vada a casa e la parola passa agli elettori. Con le firme, con le dimissioni, oppure lei dice no, niente firme, parliamo in consiglio? Io l'ho già detto quando già qualche mese fa, se ricorda, il consigliere Savioli, il consigliere da Parma, hanno detto dimettiamoci ma andiamolo a casa. Cioè anche lì paradossale, eletti nella lista del sindaco, ricordo a tutti, voleva mandarlo a casa. Oggi gli votano le pratiche, per inciso, perché poi le dinamiche interne a questa maggioranza sono fantastiche. Già allora io dissi, io sono contrario alle dimissioni, io sono per una mozione di sfiducia da discutere in consiglio comunale, dove di fronte alla città ognuno si assume le sue responsabilità e evidenzia le motivazioni politiche o amministrative per cui questa amministrazione deve finire. Questa è la strada maestra e io credo che sia la strada che sia opportuna e necessaria per correre.